Un vampiro col mantello nero Ora ti spaventerà Un fantasma con lenzuolo bianco Ora ti spaventerà Solo i più curiosi, solo i coraggiosi Potranno restare qua Che paura fa, ti terrorizzerà Halloween è già! Una strega vola sulla scopa Ora ti spaventerà Uno zombie esce dalla tomba Ora ti spaventerà Solo i più curiosi, solo i coraggiosi Potranno restare qua Che paura fa, ti terrorizzerà Halloween è già! Uno scheletro scocchia le sue ossa Ora ti spaventerà L'uomo lupo, unula alla luna Ora ti spaventerà Solo i più curiosi, solo i coraggiosi Potranno restare qua Che paura fa, ti terrorizzerà Halloween è già! Buu! Ciao bambini! Vi è piaciuto questo video? Allora mettete mi piace E seguite il canale di Alman Kids Per non perdervene neanche uno Seguitemi anche sul mio sito web lucillakids.com E inviatemi i vostri messaggi E i vostri disegni su Facebook e Instagram Vi aspetto! Ciao ciao! Ciao ciao!